Ciao a tutti, sono Lorella De Luca e come vedete sono a casa. È molto importante stare a casa, mi raccomando, rispettiamo tutti questo divieto, non usciamo di casa, così questo maledetto virus smetterà di tormentarci. In casa si possono fare un sacco di cose, per esempio guardare i film e le serie televisive che noi amiamo doppiare e che poi amiamo tutti guardare, e poi le mille altre cose che si possono fare, soprattutto stare insieme alle persone che amiamo. Mi raccomando, rispettiamo questo divieto, per il momento vi do un abbraccio virtuale a tutti quanti. Ciao!